Ha senso allora parlare ancora di questi fatti a 47 anni di distanza? Credo che sicuramente abbia senso, noi come coordinamento della Banca Montefaschi sono mai anni che siamo impegnati ogni anno a non ricordare questa data perché poi vorrei dire cosa per noi vuol dire, cercherò di essere anche molto veloce perché abbiamo l'onore di avere con noi il Presidente de Buralia quindi credo che nessuno come lui potrà inquadrare questa giornata. Per noi è stato subito chiaro come coordinamento che tra gli impegni che abbiamo anche in anni complicati e in giornate complicate comunque occultuno fermarsi a riflettere in una data che è una data storica per la Milano antifascista e repubblicana, una data che non può essere considerata mai superata perché se è vero che in quella giornata ci furono certo 17 morti, pochi giorni dopo ci fu un'altra vittima che fu il compagno Pileppinelli morto durante un interrogatorio precipitando dalle istanze della questura ma il vero obiettivo di quella strage era la democrazia italiana. E' chiaro che si può dire che quell'obiettivo non è stato raggiunto, la democrazia italiana ha resistito, la Repubblica ha trovato la forza in sé di superare quei momenti però credo che si possa altrettanto tranquillamente dire che l'evoluzione della democrazia italiana ha subito pesantemente quegli avvenimenti perché nessuno di noi può davvero dire in maniera assolutamente certa quelle che potrebbero essere l'evoluzione della democrazia se non ci fossero stati quegli altri perché come ricordavi anche tu molto bene poi quella è stata un po' l'inizio, una fase anche molto pesante a livello politico che ha segnalato non solo quei nemici della democrazia ma che in qualche maniera ha incanalato anche le forme di lotta e di protesta in una certa direzione. Quindi è sicuramente opportuno e lo ripeto noi come coordinamento lo abbiamo fatto, ce lo siamo preso come impegno, tra l'altro all'interno di quei locali lavorava un compagno che è stato anche segretario della FISAC, Fortunato, ci sono ancora dei compagni che lavorano in quella sede. Noi per primi abbiamo, è incredibile, qualche anno fa abbiamo dovuto ricordare che di fronte ad una ristrutturazione di inizia qualcuno aveva pensato di togliere quella scritta della Banca Nazionale dell'Agricoltura, abbiamo dovuto ricordare che sarebbe trattato di uno sfregio troppo forte alla democrazia e alla cultura del Paese. Quindi noi negli anni abbiamo cercato di dare a questa data un significato, di sottolineare l'importanza di questa data, abbiamo fatto delle iniziative, abbiamo fatto nel quarantesimo, qualcuno di voi lo ricorderà, nel quarantesimo anniversario, quindi nel 2009 abbiamo fatto un convegno qui proprio nel salone di Vittorio, abbiamo fatto uno spettacolo teatrale che si chiamava Mandorle a Mare, che molto sinteticamente ma in maniera anche molto convincente riepilogava gli avvenimenti, tra l'altro se volete c'è il DVD che testimonia di quella giornata, se volete prendere l'uscita sul tavolo, c'è effettivamente una cosa che noi siamo onorati di aver fatto perché è una cosa importante, così come l'anno dopo nel quarantunesimo anniversario abbiamo fatto un'altra iniziativa all'interno, lì abbiamo ancora avuto l'onore di avere il Presidente Smuraglia presente, un'iniziativa nel quarantunesimo anniversario nel quale si è anche inaugurato quella sorta di bancone monumento che è al centro del salone della Banca Nazionale di Vittorio dell'Americoltura che ricorda fisicamente il luogo dell'esplosione della bomba, il cratere che tutti ricordiamo perché in tutte le foto è anche l'orario dell'esplosione, quindi in tutti gli anni noi abbiamo cercato di portare il nostro ricordo, il nostro contributo, anche ripeto in momenti nei quali sembra che le emergenze siano altre ma non c'è mai nessuna emergenza che possa far ascoltare giornate di questo tipo e avvenimenti di questo tipo. La domanda che facevi è davvero chiudo perché lascio la parola a chi sicuramente più di me ha le capacità di ragionare di questi temi e di ricostruire quello che è accaduto, la domanda che tu facevi ha ancora senso, si ha senso perché per noi non è soltanto una giornata di commemorazione, per noi una giornata nella quale si parla e si ragiona della democrazia, quindi la memoria intesa in questo senso, la memoria Mnemose, figlia del cielo e della terra che dà vita alle muse e questo è forse la cosa che noi dobbiamo ricordare sempre, che senza la memoria non c'è la cultura, senza la memoria non c'è la società, senza senza la memoria non c'è la ricordazione.